Buongiorno cari amiche, ben ritrovati in diretta su QVC, io sono Martina Pascutti e sono emozionatissima come voi perché sono molto molto contenta di potervi presentare un nuovissimo brand di costumi da bagno, Eman Beachwear, ne abbiamo già avuto modo di parlare, di raccontare, l'avrete già trovato anche in versione on demand su QVC Plus qualcosina, ma vi anticipo di varianti colori. Poi, io ho scelto un costume da bagno bellissimo, intero, adesso poi ve lo faccio vedere, ho messo anche un pareo insomma per coprire un po' il tutto, ma insomma è veramente bellissimo, eccolo qua, lo vediamo, schiena che è completamente così nuda, abbiamo tanti bei colori, questo mio è il glicine, ma poi li vedremo con calma, il prezzo di 59,99€ con il suo pareo che io sono andata proprio ad abbinare e vi do il codice 146161, 29,90€ il prezzo, vedete io sono andata ad annodarlo più e più volte in questo caso, oppure possiamo decidere di lasciarlo anche in maniera un pochettino più morbida, con un fiocco laterale, insomma decidiamo noi, poi vedremo anche il mio caftano, insomma avremo modo di conoscere bene questo brand. Sono felicissima di presentarvi Veronica, veronica, direttamente dall'azienda di Eymar Beachwear, fatti dare un bacio, come stai? Benissimo, molto emozionata ma molto felice di essere con voi. Allora vi avverto, vi dico una cosa bellissima, Veronica è molto emozionata, è il suo primo debutto in diretta, quindi insomma dubbi, domande, anche solo un modo di benvenuto, qualora vogliate scriverci sul numerino Whatsapp lo potrete fare tranquillamente, noi siamo qui per voi anche per rispondere a tutte quante le vostre domande. Partiamo, ti va? Partiamo. Allora, partiamo con il primo consumo e vi do il codice, poi adesso ci racconterei bene anche chi è Eymar Beachwear. Codice, uno qua proprio per intero, così grande una collezione, dei mi dicono dalla regia, quindi uno per lo slip, quindi l'altro invece per il top, quindi sono due taglie differenti, per cui comunque il prezzo rimane sempre lo stesso, non è che paghiate la parte di sopra 54 euro, la parte di sotto 54 euro, vi arrivano tutte e due con questo lì, no, indosso un costume, quello che vedete sotto, aspetta, ecco, vedete, ho fatto vedere un pezzettino di costume, bravissima, basta, il giusto, però è un costume, un costume da bagno intero, io ho messo semplicemente sopra un pareo, insomma, anche per dare e per mostrarvi tutta la collezione perché ci tenevo a farvi vedere tutto quanto. Vedete che bello che è, poi lo vedremo bene con calma, ma avete tutta la schiena scoperta, bellissimo, è di un'eleganza, ma questo è anche bordo piscina, un cocktail, assolutamente, anche con un pantalone più elegante, col caftano, puoi tranquillamente usarlo anche in una serata. Chi è la donna Eman Beachwear? La schiena è un pochettino più scura, le spalle rimangono scoperte, la zona del seno vedete che comunque è un bello scollo profondo, come mi regolo con le taglie? Se io avessi anche un seno un po' più abbondante o invece la zona dei fianchi che mi rimane un po' più abbondante e che magari tira un po' troppo, cosa faccio? Stesso consiglio. Come in questo caso, è lì, è quello lì, è lui, perfetto. 14615.